Le donne democratiche e la costituente democratica mettono in campo una bella iniziativa per la giornata internazionale dedicata alle donne. L'8 marzo a Palazzo Fibioni ci sarà un evento, Benessere e la prevenzione al centro. L'incontro ha l'obiettivo di sensibilizzare le donne di qualsiasi età, a rispettare il proprio corpo, a partire dai comportamenti alimentari, dall'esercizio fisico e dalla prevenzione delle principali patologie oncologiche. Le DEM hanno invitato esperti riconosciuti nei percorsi della prevenzione medica a presentare l'evento Eva Fascetti, portavoce delle donne democratiche, assieme ad Emanuela Di Giovan Battista, segretaria del PD. Ovviamente noi siamo per la festa della donna internazionale, non solo l'8 marzo ma tutto l'anno e quest'anno abbiamo voluto pensare, al di là delle solite celebrazioni, di puntare sul benessere della donna inteso come corretta nutrizione, corretto movimento e tutto quello che è la prevenzione quindi della diagnostica per immagini sulle principali patologie oncologiche che colpiscono la donna quindi ovviamente il tumore della mammella. Quindi abbiamo chiamato dei diciamo dei relatori esperti di tutto il territorio nazionale e siamo molto contente perché diciamo come relatrice sullo screening mammario abbiamo chiamato la professoressa Gandolfo che è diciamo la presidente eletta dei radiologi italiani, attualmente è la responsabile femminile delle radiologhe italiane che siamo circa 7.000 persone ed è invece la presidente eletta e per noi è un motivo di orgoglio perché è la prima presidente eletta donna in 120 anni di esistenza della società di radiologia italiana quindi quale miglior giorno diciamo per festeggiare questa investitura.